Ci siamo lasciati con questo problema, far ripetere questo blocco di istruzioni finché l'utente non avrà inserito un valore corretto per l'input che stiamo richiedendo. Java, come ogni linguaggio moderno di programmazione, offre almeno le tre principali forme di ripetizione di un blocco di istruzioni. La prima ha questa forma, scrivo un modellino qua sopra che poi cancellerò, si mette la parola chiave do, cioè esegui, poi di seguito io preferisco come stile personale metterlo qua sotto, l'inizio del blocco delle istruzioni da ripetere è marcato da una parentesi graffa di apertura e delimitato alla fine con quella di chiusura. Perciò esegui che cosa? Tutto quello che c'è qui in mezzo, finché rimane vera la condizione che esprimo qua dopo la keyword while. While, poi tra parentesi, una condizione, cioè un'espressione che valutata deve restituire un valore vero o falso. Se il valore è vero, allora si torna su a ripetere un'altra volta il blocco delle istruzioni. E così via, al limite all'infinito. Se nulla fa diventare falsa la condizione, si andrà avanti all'infinito. Quando ad un certo punto dovesse verificarsi che l'espressione è falsa, allora la ripetizione viene terminata e si prosegue con le istruzioni che seguono il blocco do while. Ricordatelo bene, per tutti i tipi di cicli che andremo a vedere, c'è anche il while, oltre al do while, e il ciclo for, tutti terminano quando la condizione diventa falsa. Oppure, se preferite, tutti continuano a ripetere fin tanto che la condizione rimane vera. Si dice anche che in Java i cicli sono tutti a ripetizione per vero o a uscita per falso. Nello specifico, il do while è anche un ciclo con controllo in coda, perché il controllo lo si fa alla fine, dopo aver, e questa è la caratteristica di questo ciclo, dopo aver ripetuto almeno una volta le istruzioni. Ed è il tipo di ciclo perfetto, adatto, da usare quando dobbiamo chiedere un input, perché prima, almeno una volta, dovremmo chiedere, tentare di far inserire il valore giusto, e dopo andremo a controllare se va bene. Ma se nella vita reale dovessimo adottare questo tipo di ciclo, quando si decide se attraversare o no la strada con un semaforo, verremo stirati. Non è che prima attraversa la strada finché il semaforo è rosso. Eh no, è il contrario. Dovrei prima controllare se è rosso e nel caso proseguire. E infatti l'altro tipo di ciclo simile non è il do while, ma inizia con while condizione, ma lo vedremo più avanti. Quello lo chiameremo ciclo con controllo in testa, perché prima di tutto, anche prima di eseguire la prima volta le istruzioni, si controlla una condizione. Se la condizione è vera, allora si procede ad eseguire, anche alla prima volta, altrimenti potremmo anche non eseguire il ciclo neanche una volta, se fosse subito falsa. Però non voglio anticipare troppo i tempi. Rimaniamo intanto su questa forma, il do, istruzioni, while, condizione. Incorporiamo quindi le istruzioni da ripetere, che sono queste, all'interno di una struttura di questo tipo. Beh, posso tenere buona la prima parte, cancello fino a qui. Però non mi piace tenere allineato il try allo stesso livello della parentesi, per cui sfrutto una caratteristica di indentazione automatica dell'eclipse, che sicuramente avrà, e che ora vado a cercare. E, prima di tutto, provo con il tasto che mi piacerebbe fosse attivo per questa operazione, che è il tasto tabulatore, quello sopra il lucchetto del blocco a maiuscole. Tab, e vediamo se si sposta un pochettino verso l'interno del foglio, il blocco che ho selezionato. Provo ora. Tab, perfetto. Probabilmente l'editor si lamenterà subito segnalando che manca la parte di chiusura, che andiamo subito ad aggiungere. Quindi, continua a sollecitare l'inserimento di un valore, controlla le eventuali eccezioni, e ripeti tutto questo finché c'è un errore. Cioè, while, e poi, tra parentesi, dovremmo scrivere un'espressione che è valutata da vero quando c'è stato un errore, quindi bisogna ripetere l'inserimento. E ora dobbiamo parlare un po' di queste benedette condizioni, queste espressioni logiche, vero e falso, cioè dette anche booleane. Le espressioni booleane, le condizioni più semplici che si possono comporre, sono quelle che fanno riferimento ai cosiddetti operatori relazionali. La parola può spaventare, ma il succo poi della cosa è estremamente semplice. Immaginiamo di avere due variabili, lo so, x e dy. L'operatore relazionale maggiore è quello che verifica se una come valore è più grande dell'altra. E allora scriverei in questo caso se x è maggiore di y. Maggiore, il simbolo maggiore, è uno degli operatori relazionali. Gli altri, abbiamo il minore, il minore o d'uguale, poi abbiamo l'uguale, attenzione che non è semplicemente questo che è l'operatore di assegnamento, è un errore classico che commetterete spessissimo, soprattutto all'inizio e qualche volta anche dopo, doppio, quindi l'operatore di confronto, nei linguaggi alla c, è questo, il doppio uguale. Poi simmetricamente avremo maggiore o uguale, maggiore e anche il diverso abbiamo. Così si mette un punto esclamativo e un uguale. Poi vi proporrò un po' di esercizi sulla struttura iterativa, per il momento cogliamo sul concetto generale. Adesso però dobbiamo tradurre questa parte teorica in una condizione funzionante per il caso che stiamo trattando. Che cosa possiamo mettere come condizioni corrisponde finché c'è stato un errore? Ora come ora, se vado a guardare il codice, non trovo nessuna variabile o copie di variabili, al limite basterebbe anche una sola, tipo x maggiore di 0, diverso da 0, non ce l'ho, non ce l'ho, quindi me la devo creare. Devo cioè andarmi a gestire una variabile che arrivati qui mi deve dire, con il valore che avrà, se c'è stato o no un errore. Mettiamoci allora prima del do, e utilizziamo per la prima volta, anche se fosse un c'è, non l'avevo già dato, una variabile tipo booleana, cioè che può avere solo due valori, vero o falso? Boolean, chiamiamola errore, e che valore diamo in partenza? Beh, non abbiamo ancora iniziato, per quello che ne sappiamo è tutto ok, quindi false. L'idea è che se tutto va liscio nella richiesta dell'input, lasceremo così com'è quella variabile errore, false, cioè non c'è stato errore, e quindi qua potremmo fare un controllo coerente con la logica, quando la condizione vera si ripeterebbe, quando è falsa si uscirebbe, e abbiamo risolto il nostro problema. La condizione, corretta, anche se un po' ingenua, poi vi spiego in che senso, è questa, errore uguale a true, c'è stato un errore, allora è vero, ripeto, occhio però, partiamo con false, quindi vuol dire che qua, dopo un errore di formato, e qua ho aggiunto questo blocco, per un errore sul flusso di input, mi sono inventato un po' questo messaggio generico, dai, va bene, quindi, e qua cambiamo, con un assegnamento, notata differenza, qua c'è un solo uguale, qua invece mi sto chiedendo semplicemente se errore è uguale a true, non sto cambiando il valore di errore, quando arrivo qui, allora mi troverei con la condizione a vera, e ripeterei l'inserimento. Dicevo prima, soluzione ingenua per la condizione, perché, quando utilizziamo le variabili boolean, loro stesse hanno già un valore vero o falso, questo è un po' ridondante, basterebbe scrivere così, finché, while, errore, è già lei come espressione costituita dalla variabile vera o falso, va bene, ok? Quindi se volete, rimarcate uguale a true, o uguale a false, ma questo è più elegante, più sintetico, più compatto, while, errore, finché il valore di errore è true. E adesso chiudo il video, e vi lascio un esercizio, tutto il discorso che abbiamo fatto sul while, è perfetto, però, qua c'è un errore, provate il codice, e cercate di analizzare la situazione, e di aggiustare il tiro, la soluzione ve la do al prossimo video. Ma fatelo bene il test, altrimenti a una prova superficiale, potrebbe sembrare corretto questo codice, che è molto pericoloso.